E l'altro tema al centro della scena politica è sicuramente quello del lavoro, perché preoccupano i dati pubblicati oggi dal rapporto Svimez sul Sud, sul Mezzogiorno. Quasi due milioni, pensate, i giovani che negli ultimi sedici anni hanno lasciato le regioni del Sud Italia. Molti sono partiti per l'estero e poi ci sono più di 600 mila famiglie all'interno delle quali nessuno lavora. Tutti sono in cerca di un'occupazione.